Alice Arrende con Master Songs, un viaggio nella musica d'autore in cui alterna i suoi grandi successi a quelli di maestri come Battiato, De Andrè e Guccini. Gli spettacoli Arrende e Master Songs, il tour teatrale di Alice, ha aperto prima fila a rassegna di spettacolo dell'Associazione 900. La cantautrice ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso i brani più amati della sua carriera, ma anche attraverso una selezione di canzoni d'autore che hanno segnato la storia della musica italiana. Gabriella Datri. Dal momento che inverno ti convince che lì non sarebbe arrossito rubandoti il tubo. Questa volta non c'è solo il genio siciliano di Battiato e quel rapporto artistico che è stato tra i più fecondi e affascinanti della musica italiana. In Master Songs Alice porta sul palco i brani più cari e significativi del suo percorso artistico, mentre rende omaggio e si fa interprete dei cantatori italiani più grandi, Dalla, De Andrè, De Gregori, Fossati, Gaber e Guccini. Due ore di concerto, solo acustico per metà, poi un momento speciale dedicato alla poesia. Pasolini, Cappello, Di Gleria. Alice ritorna dopo il tour estivo e riprende quel lavoro che sente come un'esigenza alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici. L'accompagnano Callo Guaitoli al pianoforte tastiere, Antonello Durso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. Partita da Cittanova, la tournée teatrale ha aperto la 22esima edizione di Prima Fila, rassegna di spettacolo dell'Associazione 900, che tra Rende e Crotone porterà alcuni dei nomi di maggior richiamo del panorama musicale e teatrale. Siamo molto molto contenti perché insomma Prima Fila ormai si sta imponendo come una delle rassegne più importanti della Calabria. Questo ci lusinga e ci onora in un panorama regionale importante. Che tiene di giornare un mondo